Buongiorno, benvenuti all'edizione flash del TG2000. Il presidente Draghi nella serata di ieri è salito al Quirinale per un incontro con il capo dello Stato Mattarella. Al centro del colloquio anche i temi di politica internazionale, ma è la tenuta della maggioranza a destare preoccupazioni dopo le tensioni con i 5 Stelle di Conte. Ieri infatti c'è stato lo schiaffo del Movimento 5 Stelle al governo quando i pentastellati non hanno partecipato al voto sul decreto aiuti alla Camera. Il testo malgrado questo è passato con 266 sì e 47 no. Giovedì il provvedimento è atteso in Senato, dal PD arriva un appello alla responsabilità mentre Berlusconi invoca una verifica di governo. La Russia riduce di un terzo delle forniture di gas all'Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. Alla luce di questo il governo mantiene lo stato di pre-allerta e monitora i flussi. Ad oggi non servono misure emergenziali. Il piano di diversificazione delle forniture di gas e di raggiungimento dell'indipendenza energetica dalla Russia prosegue, secondo quanto già annunciato. Continua a salire il bilancio delle vittime del bombardamento russo su Cassiviar nel Donbass. Secondo il governo ucraino sono 33 le vittime, tra cui un bambino di 9 anni. I soccorritori hanno continuato a lavorare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, ma le speranze di trovare qualcuno ancora in vita sono poche. Altra emergenza è quella alimentare, con la carenza di materie prime negli ultimi mesi. Da ieri sembra che si sia trovata una soluzione al blocco del grano prodotto da Kiev, perché le prime otto navi straniere sono arrivate ieri nei porti dell'Ucraina per esportare prodotti agricoli. Le tensioni internazionali Washington accusa Teheran di essere pronta a fornire e ad addestrare le forze russe a utilizzare i droni, inclusi alcuni armati. Un progetto iniziato nel mese di luglio, secondo il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Le armi sono la prima causa di morte dei bambini negli Stati Uniti, lo ha detto il presidente americano Joe Biden, in una cerimonia alla Casa Bianca per la stretta sulle armi approvata di recente dal congresso. Muoiono più studenti di liceo ogni anno che militari e poliziotti insieme, ha aggiunto il presidente americano. Il Giappone in luto oggi a Tokyo, si sta svolgendo il servizio funebre per il defunto ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, il funerale privato limitato solo alla famiglia dell'ex leader, ai parenti stretti e ai dignitari stranieri, ma centinaia di persone hanno deciso di accompagnare e rendere omaggio al primo ministro, l'assassinato. Venerdì scorso, al via la quarta dose di vaccino anti-covid per over 60 e fragili, il ministro Speranza ha annunciato la decisione dell'Italia di adeguare le sue linee guida dopo il parere dell'EMA, via libera anche dell'AIFA, il tasso di positività intanto scende al 20%, salgono invece i ricoveri, 127 i decessi. Questa mattina il presidente Draghi incontrerà a Palazzo Chigi i sindacati, molti temi sul tavolo, dal caro vita che riduce il potere d'acquisto delle famiglie, al salario minimo e al taglio del cuneo fiscale. Attenzione però anche alla rivalutazione delle pensioni. La mano della criminalità dietro i numerosi incendi divampati nelle ultime settimane a Roma, troppi e anomali e così montano le polemiche e le accuse nei confronti delle istituzioni capitoline. La procura indaga sul dolo e sulla ridotta manutenzione del verde, preoccupa poi la qualità dell'aria, alti i livelli di diossina nella zona dei Grandi Roghi, nell'est della capitale. Prime sei condanne per l'assalto alla CGL avvenuto nell'ottobre dello scorso anno a Roma, a margine di una manifestazione contro il Green Pass. Il GUP, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ha inflitto condanne tra sei anni e quattro anni e mezzo. In particolare sei anni sono stati dati a Fabio Corradetti, figlio della compagna del leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, e a Massimiliano Ursino, leader palermitano di Forza Nuova. Il presidente Biden svela, insieme alla NASA, la prima immagine ripresa dal telescopio web, nella quale si vedono due galassie lontane che brillano l'una accanto all'altra. Un momento storico per la scienza, ma anche per l'America e per tutta l'umanità, ha detto il presidente statunitense. Monty Norman, compositore e parogliere britannico, le cui opere includono il celebre tema della saga di James Bond, commissionato per il film Agente 007 Licenza di uccidere, era il 1962 e morto all'età di 94 anni dopo una breve malattia. E' tutto, l'informazione torna come sempre alle ore 12, buona giornata.